è la quattro di videologo è il gioiello che è il numero allora, benvenuti con questo è il videologo Nair e ragazzi ci porto a prova vogliamo sapere cosa si trova Nair a livello nazionale chiesto f***a non lo vede in generale pensare a Gabbina Donnino è il bravo non lo vede in generale 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 quando c'è partita questa cosa, questa mozza è partita che non voglio arrivare non lo vede in generale non lo vede in generale un po' dalla massa che stavano con i cemoni allora ormai è l'era del pub Grazie a tutti.